ci dovrei essere, devo soltanto aprire da qui Twitch, per la parte tutto vai però, dai ma la, qua, funziona funziona, carico carico, vai qui, per effetto, più o meno c'è sempre poco spazio, ma di quello non ci si può lamentare, ok, questa è la modalità infatti, stavano direttamente nel 2018, mi fa, strano che fosse questa modalità iniziale di Fortnite, che poi si è cambiata così tanto, magari con tutte le nuove aggiunte potrebbe essere più interessante, con gli zombie, oh? c'è cosa si sente, no? ho bisogno di qualcuno che me lo dica, perché ah, wow, che bello, guarda cosa abbiamo con questa skin è molto carina, come qua, solo che non funziona esattamente così, la testa non va bene, questa è già detta, è Reaper, praticamente Reaper eccoci, salve, 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 metta la privacy per favore, così non entra nessuno, eh, come si fa? eh, vai dove ci sono le tre lineette, e dove c'è scritto privacy, metti privato lo trovo privacy adesso, tranquilla ce la puoi fare metti lì, ah, sì, sono stupito io tu continua, annoying nooo, l'hai comparata fatto, fatto ok, così siamo noi ero con un amico che mi ha insegnato ma poi vai farlo, vai attivarlo che cosa? il dal, sì ah no, ok, ma che cosa cosa succede? contemporaneamente sì, ma è difficile, ho visto basta che fai 3, 2, 1, il via lo premi, non è difficile, lo aspetta, proviamo anche questo, che non capisco più questo non è un dub ah, dub gentiluomo sì, non è un dub questo allora, metti il coso sulla campana lama che ha il via, lo startiamo assieme sì, ci sono, vai ci sei? 3, 2, 1, vai più o meno quasi no, dai va bene, però basta perché è a noi mi piace il 50 contro 50 è la cacciara che voglio io da un gioco del genere ok va bene e anche la cacciara in cui sono morto puoi dare un'occhietta se si sente tutto bene se si vede bene un attimo adesso riesco a questa appena riparte perché laghi, mi laggia la live ehi allora, sconosciuto ma dato è normale, ogni tanto lo fa li metti pronto, vediamo un po' dai, facciamo una cosa però se ce la faccio in tempo mettere tutto non rega niente non rega niente non rega niente una sola ah, questo che mi piace tanto via se parte ci sei? non so se mi sa che lei è partita bene ok non vorrei ma tu sei entrata cosa è successo? ero in partita io non lo so a me mi ha fatto entrare non vuoi che debba togliere il privato a sto punto no 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 non c'entra niente non c'entra niente tranquilla la skin è veramente bella c'è un sacco l'aloe questa è l'aloe tra l'altro ho fatto un paio di 50 contro 50 a ieri in live l'ultima che ho fatto dovevo sono andato al alla discarica dove sono tutte le macchine schier rottamatte non mi senti cosa sto parlando a fare ora mi senti magari mi dimentico che non si può parlare in caricamento ogni tanto ok allora dicevo io ho fatto un paio di 50 contro 50 verso 50 in live sono andato spero che te lo dico a crocevia del cerpame si anche se non lo vedo è in alto a sinistra ah no era quello si quello delle macchine c'è solo lì ah ok come sembrava eh spiaggia spiaggia ma che cavolo dico a rifugio pensavo di essere sul camion blu sul camion rosso allora 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 tanto di quando dovrebbero esserci nemici no è molto complicato che siano nemici però potrebbero esserci comunque eh siamo veramente lontani da dove cadono loro beh cosa c'entra c'è tanta gente che magari deve fare ancora qualche missione visto che manca poco vediamo se se il tizio qua mi lascia almeno un'arma eh ma per scuola devo fare anche una missione qua trovare dei forzieri se c'ha eh ma in questa modalità qui è difficile perché comunque essendoci tanta gente è difficile che ti lascia qui c'è un altro dove sono io io sono contento adesso hai trovato il cespuglio no cosa hai trovato se vieni da me ti faccio prendere la cassa c'è una qua ne ho trovato già tre stai tranquilli buone tranquilli voglio vedere se riuscivo a trovare degli scildini prima di usare questo o io ho uno scildino no perché avevo quello da 50 ho già usato dipende e sono al massimo lasciamo stare vediamo se il mio maestro mi ha insegnato a buildare bene chi? ho iniziato oggi a buildare quindi sto ancora imparando mi sono appena reso conto che in realtà in questa cacciana sarà un po' difficile che uh funghi che che serva a qualcosa il cespuglio però anzi anzi forse proprio perché c'è cacciana mi si vede può essere uh altri scildini dipendili tu perché sono già a 75 e non posso derli sono a 50 iii ha già usato tutto qua l'amico là non ho capito niente dentro qua c'è la cassa ah ok yeah ho detto con quel cespuglio c'è il tuo amico poi ditelo che cosa mio amico rampino mio amico ma lancia razzi mio amico c'è rampino non ti piacciono i rampini ah mi piacciono più da quando sono morta da danno da caduta col rampino ti ho augurato ieri è successo veramente ci ho fatto una partita praticamente a squadre solo io perché dovevo fare una missione mi sono avvicinato al cubo se tu spari al cubo il cubo lancia un fulmine che ti colpisce ti fa run e ti sbalza via i nemici hanno colpito il cubo e io ero dietro il cubo mi hanno lanciato fuori e sono morti saranno da caduta se tu hai un funghetto lasciamelo che mi manca uno per una missione proprio ho anche una mela ho visto che valgono anche quelle sì sì mele e funghi adesso sto anche facendo un po' di quelle visto che ci sono quanto è divertente però il rampino le bombe mi servono ci stiamo lentamente avvicinando al luogo esatto stanno fightando lì sì vedo che gente è morta siamo in svantaggio ovviamente noi e beh quando mai noi siamo in vantaggio tu sei dietro di me va bene ho trovato una doppietta leggendaria olè sei un po' indietro sei un po' indietro intanto sono 5 minuti prima della safe oh amico dai calmissimo chiedo perdono per le mie povere orecchie dai un fungo fungo mela fungo mela puoi ti sento a scatti ti giuro non so se è colpa mia o tua io mannaggia troppo presto non lo viene così che mangerò anch'io oh fungo se ne è fatta e sono pure a full scudo forse l'ho portata prima e non me l'ha data non penso che non mi sono accorso sono stupido non lo so vediamo che stiamo morendo un po' troppi ma questo è dispensato dal numero in cui siamo rimasti la vedo dura c'è una cassa ma tanto non mi serve perché sono pieno di roba non so se è un nostro alleato penso oddio che in realtà da questo punto è un po' complica oh ah ok dove ho il profondo bipipipi bipipipi stanno massacrando nel vero senso della parola allora io capisco questa cosa perché si faccia la scala qua perché visto che ci può attivare di nuovo il paracadute e tutto quanto va bene però ma è pericoloso altro Perché quando stai cadendo Li apri il paracadute Non ti puoi fare danno Sì Ma se ti buttano giù la costruzione Vale come caduta comunque No perché Appena ti buttano giù La costruzione Tu automaticamente Apri il paracadute Ok Devo fare un tentativo Perché devo vedere Se si attiva con il Col cespuglio intosso Però poveri no Vediamo subito Perché non guardo Sì È bellissimo Guardami ti prego Lo so Guarda che t'ho visto Sempre un carciofo volante Guarda lo spazio La costruzione Mi sa Lo uccido io E infatti Mi ho fottuto la kill Carciofo volante Devo provare la bid Devo provare a costruire Visto che è già Devo solo fare un attimo Una cosa qua dentro Così me lo dà visitato Presumo Modifiche Devo cambiare Ricordami Quando finiamo la partita Devo cambiare L'impostazione Te lo ricordo anche io Perché Oh Buongiorno Uno qua sotto Uno qua sotto Io e la mira Eravamo molto amici Una volta Perfetto Io ho sparato un colpo Anche io Almeno forse Credo di sì Anche se non è arrivato il danno Non è arrivato il danno Ce l'avevo qua sotto Sono morta Arrivo No sono nella base nemica Io praticamente Nasconditi Ti fai finta di essere Una di loro Eh non posso Sono troppi 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 Ah niente Peccato Ha visto Dopo che sparavo Iniziami dai Quanto t'ho tolto Non posso vedere Niente Pensavo fosse un altro tipo di arma Questo purtroppo Ho fatto un errore grave Ho fatto un errore estremamente grave Pensavo avesse un altro tipo di arma in mano Eh no Aspetta che lo scrivo una roba Eh intanto lo metto pronto Quando arrivi Purtroppo ancora non riesco a costruire bene Sto imparando No ma poi se ti butti nella base di nemici È un po' complicato Eh eh Ne avevo visto uno Non pensavo ce ne fossero altre sei Dietro della struttura Quanto mi manca Per Ragnarok Tipo 200 punti Bello Per avere la cosa completa Scusa ho visto adesso una cosa Dei livelli Cosa è un giocattolo Nel parco giochi Ma perché parlo durante il caricamento Sono imbecille Perché? Perché non si Ah mi senti? Certo che ti sento Ma non dicevi che il caricamento non sento un accidenti? Ma questo gioco è tutto buggato Ogni tanto si sento Ogni tanto no Vabbè Eh dicevo Avevo visto adesso una cosa dei livelli Che c'era Un giocattolo Un giocattolo Un pallone Una palata palacanesso praticamente Sì E a cosa serve? C'è una missione Che devi fare canessi Vari canessi Vado a croce via io Arrivo con te Dov'è la safe? Sì Andiamo solo a attraversare il mondo Ma tanto ci metti 5 minuti sempre 6 minuti 6 o 7 minuti C'è problema Vabbè non c'è problema alcuno Allora se tu vai a croce via io vado qua Ma è uguale in realtà Ah già E io vado di là Poi andiamo lo scemo scemo gomma gomma Prendiamo le fratture E ce ne andiamo Ah dopo ho visto Ho visto anche un minigioco Dal Dal moai Che non ho capito Ho capito Ma non ho capito cosa serve È una missione Praticamente Tu cosa devi fare Attivi il cronometro Compaiono altri piccoli orologi Li devi prendere tutti Prima che scada al tempo È una missione sempre Pensavo se qualcosa ti può Per darti un'arma in più Sarebbe bello una cosa del genere Cioè che magari Completi sta cosa Ci metti un po' di tempo Magari rischia anche di essere ammazzato Però ti dà un'arma decente Un'arma viola No no È una missione Infatti io quella lì Non ce l'ho più Perché l'ho finita Belli Due assalti bianchi Wow Eh beh anche io sono molto fortunato Ho trovato Beh in realtà È un Barco schifo Fucede al salto verde Meglio del bianco oscuro Vai più danno Zamp Poi la differenza è minima Ho trovato ben due shield Da 50 Buono Te ne lascio una te Se vuoi Sì Adesso vedo un po' Cosa mi capita a me Ho trovato anche gli shieldini Perfetto Io riesco a pullarli No purtroppo Ah un portatile di quelli nuovi Buono prendilo che ci serve Per quando dobbiamo Quaitare Se non lo abbandono come un imbecille Sì Ti strozzo se lo abbandoni No ma Ieri ti ho detto che Tu sei andato a mangiare Non hai visto cosa ho fatto Sono andato al crocevia Da solo completamente Non c'era nessun altro player Ho trovato armi viola Un'arma 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 Penso fosse l'assalto leggendario E per sbaglio L'ho lasciato per terra Tutto Solo armi verdi e blu Non me lo dire Mi stai facendo male al cuore E poi E anche di quelle parti lì Che adesso non capisco perché Le live vengono tagliate alla fine Non so Quelle caricate almeno Cioè ricaricandole Sì Io infatti ho visto Eh non ho capito ancora perché Devo vedere se è per colpa del bitrate Se è per qualche altra Cagata No Non volevo trovarlo Ho trovato il cespuglio Dai lascia stare Tanto non serve a niente cespuglio In questa modalità Mi sono reso conto Ah che bella Sto lasciando Un altro cespuglio Ma allora no Però non dirmi certe cose Che poi Eh Ecco Fammi se trovo Se c'ho due cespugli Io direi che possiamo iniziare ad andare Io ho ben Ah no Dicevo Non posso voltare più di Di famiglia Hai una macchina Lì per caso No Ok Allora andiamo con questa Ma questa è l'abondono va Per Metraglietta Metraglietta Cosa è bianca Animo apri Sì Non mi investire Ah ne vedo che adesso ne hai almeno un 50 anche tu Facevo Aia Volevo salire Stavo giocando un po' Ma l'hai preso? Eh due ne avevo No voglio provare un altro Ah ha bagnato Scusa Quello lo dovevi tenere lo sai Vabbè Capita dai Ho sbagliato Non volevo Eh? Hai preso i luci e spuglie Non so dove sono finiti Stavo cercando di bollarlo Va bene È orribile sta cosa Comunque veramente inutile Cosa? Con papile quello nuovo? No il carrello Era solo per andare a rip Sì ma ti rendi conto che Stiamo andando più lenti che camminando quasi No non è vero Guarda adesso È in discesa Va in salita Questo è proprio a tempo Vedo sono delle munizioni lì No 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 Scherzavo Eh perché non riesco a mollare il carrello? Non riesco a mollarlo? Ok Forse perché prima devo scendere anche io No non c'entra niente Vieni a prendere lì Apri subito il paracadute Dal lato opposto Oh boy In teoria dovrà però esserci altri rinni Qualcun Sì Atterra sul burger Ecco C'è uno scrigno C'è uno scrigno C'è uno scrigno non aperto vedo Vieni a aprirlo tu intanto che io prendo il burger Non so se Perché cosa dai? Cerro Eh ma basta Scildini Che balle Scildini tra l'altro un'accidenza Sei? Perché parte devo andare Siamo il cubo? Eh il cubo sta arrivando La zona di fight è qua Io direi Perché stiamo affrontando in mezzo alla zona di fight allora Perché voglio andare ad aiutare quel povero tizio qua È morto Andiamo possiamo ancora aiutarlo Mi sto per una pessima idea E tanto se ci muore faccio sperare qualcun altro mezzo medici ma ho già un sembra una posizione orribile ma veramente veramente orribile c'è spuglio dove sono i cittadini dei presi oh scusamente li presi io non so se ci muoio per infullarmi tanto non è che serveva molto eh bello con il pompa con sei colpi non mi fa perché io messo la l ho sbagliato ricordami che devo modificare una roba delle impostazioni non potrò mai costruire mamma mia anche la catena che mi sta tirando e ti dire ti starei chiedendo perché sto sparando al nulla in verità sto sparando all'airdrop e qualcuno mi desse una mano c'era qua qualcuno nel fortino tu vai nel fortino nemico giustamente no è dove sono passati è qua sopra eh non so se ti conviene aiutarmi davanti davanti a dieci merda lui sa costruire io no eh se lo vedo c'è quei dita che parte ma ho dubbi che c'è da fare ma deve esserti utile eh qua è usata ah le lanciate dai ho finito le impostazioni quello è quello che ha ammazzato anche me quello che ha appena sparato l per i muri io avrei messo la l per i muri un secondo muro 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 sto muovendo di caldo no questo lo vedi ok ah quella lì è la missione allora ok ci sono ci sono ok oh c'ho Ragnarok hai cambiato settaggio si secondo che metto la skin di Ragnarok adesso ci vuole quanto sei figo mamma mia mamma mia proprio c'è c'ho anche gli occhi illuminati il problema di Ragnarok sai qual è che se ti colpiscono sulle corna conta come headshot e allora portare scusa scusa perché usarei quella skin allora perché mi piace guarda adesso c'ho anche le corne illuminate e gli occhi illuminati si ma il controproducente se ti beccano le t'ammazzano ehi vabbè capirai ma va bene lo sei tu è pay to win questo gioco questo è no anzi è pay to lose in questo caso beh quello è anche vero perché comunque Ragnarok legge e io lo spettaccio c'era mamma mia bellissima perché ok dove andiamo? dove vuoi tu scegli andiamo rapide rapide? ok che vedo che non ci sta andando nessuno possiamo anche farci bosco dopo adesso vediamo un po' dove chiude eh chiude a magazzino sì sì non possiamo ma per tutti i giocatori sarà sempre magazzino munfì adesso si chiama spavondo stantito stantio 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 sì credo stantio magari non lo so si chiama si chiama in qualche modo ah anche un'altra un altro piccolo problema ho avuto ieri ho trovato queste eh non so cosa hai trovato stantio modifica la struttura e vieni su ah fossi capace ah fossi capace a farlo o lo farei subito ehm dicevo ho trovato questo affare ciao sono detto di te aspetta un secondo mi fa modificare le strutture dimmi eh vabbè ho trovato questo ieri ho scoperto per i rampini e l'ho tirato quasi ai miei piedi poi sono dovuto scappare fortissimo genio prenditi questo mi sa che ho sbagliato una volta a modificare delle impostazioni c'è il tattico bianco se lo vuoi adesso arrivo eh per forza ho sbagliato ho messo quello vediamo se adesso funziona io ti dico che tu mi devi modificare sta struttura pompa ma c'è un altro uguale bomba c'è roba da mutare bomba c'è un lampino anche se lo vuoi lo so che non lo vuoi il più è però no 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 devo modificare devo poi ripristinare tutte le impostazioni e rimodificarle di nuovo perché non so che cosa ho toccato e non posso più ma scusa fino a ieri non andavano bene cosa è cambiato oggi ho giocato con un amico che mi ha fatto cambiare i tasti per per imparare a buttare mi ha fatto mettere altri tasti io avendo modificato le cose adesso non mi ricordo più che tasti avevo e non riesco più a fare le cose che dovevo fare i miei metti qua il bello comunque il baule nel cesso ma quanto è figo ragna l'ho presso a me sembro uguale a prima anche se io brillano gli occhi un pochino e le ore e le corna le orecchie che brillano mamma mia che brutta non è le orecchie e corna se tu che stai dicendo le orecchie e ho sbagliato ok tu sei legge cosa sono leggermente cosa io ti vedo che la tua testa è su in cielo ottimo poi uno scrivere bar me lo vedi è ma se ti fermi magari riesco anche a parte la chissà che mi sta andando il computer era pianto adesso sei invisibile speriamo che per i nemici nove è bellissimo vedi il nome della persona ma lui ma se è invisibile è brutto degli aero dopo delle case probabilmente mutate no per esempio un forziere a un fucile da caccia ecco non mi fa più raccogliere le cose ah da allora ti stavo vedendo decisamente non mi apre la porta dai visto che sono un gentiluomo ti vengono a fare io ce l'hai fatta no sono riuscita totalmente dall'altra parte grazie grazie uomo invisibile sei bellissimo ok sei un insulto sei bellissimo quando sei invisibile nooo non sono così cattiva quasi quasi oh sei deciso che sono cattiva non c'è una cosa di decente però prendi quelle munizioni magari o che palle non riesco non riesco a memorizzare la sequenza attiva non gridare una gallina mentre cadi attiva il paracadute ci sono ho rischiato di morire malamente ma ci sono e non hai neanche visto questo ma aspetta dimmi come si vede questo piuttosto io non ti vedo vedo il suo nome aspetta non so che non mi vedi però voglio vedere cioè io vedo il cespuglio ma non vedo te ah ok sei tornato visibile dai ti rivedo di nuovo adesso ci chiamavano i cugini di campagna cos'è efficiente hai buggato il carrello come ho buggato il carrello si andava a muoversi da solo e rigate stava cadendo vai eh vabbè ho capito che vado io a piedi col carrello è bravissima Ragnar è la spesa ho sentito un secondo no non credo ho sentito male io bibi Ragnarok a fare la spesa in arrivo quanto siamo lontani non così tanto questa la perdiamo sicuro andiamo a morire signori adesso arriva la pro di fortnite dov'è? è davanti a te non c'è nessuno di fianco a me che sia pro di fortnite se fossi pro di fortnite non staresti giocando qua aiuto portali portali di gente cattiva si assolutamente si ho visto non riesco ad uscire ho scaduto ok ok perché giustamente tu devi avere la mamma stronza e c'è il pompa di prevenzione ma è un alleato scusa? no è un nemico quello che gli sto sparando forse no non tu io sto sparando uno si allora facciamo così tu sei andata tu sei proprio andata ho capito e allora la riscossa si sono mimetizzato proprio tantissimo no vieni qui ah eh niente vabbè uno lo dovrebbe fatto fuori credo se non lo rivive lui sono riuscito a farne fuori uno forse non ho visto in realtà bravo eh io purtroppo sono uscito non volevo in realtà non ho visto se l'ho fatto fuori o meno perché mi hanno ammazzato dopo subito dopo aspetta eh stavo dicendo muro con la F scale con la G sto rimodificando tutto vediamo trappola F5 oh posizione costruzione ora poti l'ansia ma sei tu che ha dato le cose da Ragnarok? perché lo vedo vuoto non lo so probabilmente si allora seleziona modifica costruzione no va bene sta volando mezzato anche questo andiamo così facciamo sempre anni 50? facciamo l'ultimo in 50 perché andiamo dai ok così intanto se ho qualche impostazione sbagliata la modifico poi mi fermo un attimo in gioco intanto la modifica ma si ti mette un attimo fuori safe tanto finché è magari metto in safe non fuori safe è di un annoying sta cosa veramente orribile comunque davvero ecco meno male avevo una casetta piccolina in canata perché canto sta canzone non lo so sono questionato quindi giuriamoci a cantare sì sì l'ho fatto in tempo ok dove non ne ho idea palmeto bagdad come la chiami tu quella è bagdad no? qua è bagdad è palmeto sì sai che se la cosa se i capo sono stati più composti noi non ci arriviamo più dai figurati tranquilla no è vicina ma fidati del mio istinto ma io quando vai no non c'è problema ho trovato qualcosa di oripilante probabilmente no in realtà deve essere bello il porco schifo allora l'accovaccia che ti ho visto il control ho uno shieldino per te dopo sì aspetta che tanto io devo ancora modificare roba purtroppo allora cazzo mettiamo questo a cui faccio di questo vediamo dimmi un po' tu che opro di fortnite quale sei tu com'è il portale portatile lì la finitura portatile è quella per teletrasportarsi via ok allora qua c'è un succo se non penso ti serve perché ho visto che sei già 50 di scudo vedi che non me le fa più modificare io non capisco più il tasto per modificare le cose ah è questo stazioni questa cosa si però un po' di dimensioni in più fucile d'assalto pesco questo allora ho trovato un altro fortino stavolta sto attento hp e io come la modificavo la cosa con facciamo la b di tanto il tetto non mi serve quindi se io adesso faccio così ho visto un movimento stano del del guardrail mi serviva un'auto in movimento mamma mia la paiura si ma adesso ho messo questo ma non posso modifica costruzione ripeti l'ultimo no mamma mia ho i buoni mamma mia allora chi ma è stra scomodo in sta modalità com'è il barilone è utile perchè ti da vite e scudo si ma in sta modalità che ci metti poco a far trovare dei nemici anche eh si tu si ma così non ho armi eh va bene le due la segnature vanno bene almeno non mi confondo vediamo così se riesco sono un fottuto genio profa io non capisco se sto laggando non riesco a capire non siamo nella valle incantata qui è un tasto sinistro che io usavo per modificare aspetta allora la via è per costruire infatti ciao sta se ho uscita santo di genzia dove ho perso ah i materiali giustamente io è molto simpatico credo al cartus tui cavi in legno ci sono le strutture che cazzo sto dicendo ahia voglio i tasti come prima non puoi mettere il prossimo poi è finita scusa sì ma non ci riesco ma perché hai dovuto toccare tu stai a toccare tutto sei e poi fai casino sto odiando sto gioco io mi sto muovendo da un po' comunque tu non so tu non so è ancora ferma lì hai la safe che sei abbastanza vicina ti conviene muoverti merda ma qual era per raccogliere le cose perfetto se siamo a sto livello buona fortuna poi il lago lago pure non ho materiali però ovviamente ci muoio sempre meglio che fiume tanto vedo che si si però se te la togli un palmo dal naso è brutto perché c'era lì davanti la safe nel senso che è molto bene nel senso che stiamo tutti morendo ah ho capito che sei messa bene tu con la safe non avevo capito no 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 io io ci muoio la safe non è quello il problema e allora corri scappa fuga si sta andando molto bene questo game di nuovo vediamo un po' cosa si riesce a fare più più killer ha tramontato mister Greg quanto leggo i nomi e mi immagino la fantasia della gente guarda ne ho viste di tante ma tante di nomi strani che mettevano e ormai non mi non so perché ho fatto tutto questo allora non so niente a fare sei ok mi ho preso molto male e potevate dirmelo che per fare i trick bastava che andavo qua maledetto ci morirò per la safe sì ho visto come ci sono morti per la safe sono qua sono sotto di te ah sei con l'auto esatto madonna quanta gente ci sono tre persone davanti a te lo so ma mi sa che mi spottano per le corna o semplicemente perché ne ho uno qua di fianco con lanciarazzi no vabbè ok ho tolto 27 a 1 no 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 t'attacchi sono stato vistissimo sicuro che è il scello ah sono sono molto intelligente sono estremamente intelligente fanculo esattamente va bene addio sai che siete in quattro tre va bene vado a morire qui sei da solo madonna la mira madonna la mira madonna la mira è appena morto e sono da solo alla salute in quanti modi riescono a venire a prendere con rampino ma bisogna di aversi visti lo sento che sta arrivando con rampino sento rampino che cica le cose ce l'hai di fianco ah si adesso lo sento pure io perfetto tu ti vuole in safe tanto qua non puoi più fare nulla perché ti vengono a prendere non puoi sperare di sopravvivere beh sei l'unico non puoi sperare di sopravvivere io e una sono io no ti fai spottare che tanto sai non gli fai danno eccolo che è arrivato non so se gli ho sparato o meno non credo va bene è un sicuro di averlo colpito almeno mentre stava a terra non so forse ce l'ho fatta risistemare tutto come prima bene mettiamo a coppie quindi testiamo stavo aspettando che mi dicessi come cacchio devo fare e io ecco vedi che non lo so cambiamo skill scusa parlo da sola tranquillo io non sono così incapace nei giochi ma mi ha messa anche a me questa cosa? hai messo le skin random tu? si dai maestra più o meno dove andiamo? lago si è fissata con sto posto te eh ma ho visto che ormai me lo eliminano fra un pochino io dico meno male che lo elimino sto posto orribile puoi ancora andare oh senti io i miei peggiorchi li ho fatte qui ci sta la vichinga con il mantello di lana quanta gente sta arrivando? non ne ho idea uno c'è che sta atterrando sul tetto dobbiamo atterrare prima noi sennò ci fotte se ne va? no è qua si prova sotto è sotto eh si lo so che è sotto magari se trovassi un'arma che non sia una pistola ci sono troppo lozzoli vieni qua vieni qua no niente scherzavo aspetta voglio provar no 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 è sotto andiamo sotto che stacca pietre ma sotto 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 la casa ma sotto dove sotto? non lo so sento che costruisce io provo a scendere mi sono buggata ottimo e vai penso si sta sotto sotto eh arrivo ah se ne due vai non c'era eh io sono senza vita no eeeh non trovi girati in quel modo e scappare ero senza vita non potrò far niente avevo dieci di vita eh lo so però ah peccato volevo vedere come andava il momento in cui ti giri quando non hai più vita è il momento in cui muori non puoi girarti eh lo so ma non potevo far nulla eh potevi provare a sparare magari perché aveva un headshot che toglieva 150 con dieci di vita cosa volevo fare? eh scappare? cioè scusa hai dieci di vita cerchi di scappare ma siete già sparando e a quel punto girati e spari prima che lo faccia lui che altro perché tanto ci muori comunque almeno fai eh ma avessi avuto un cliente scelte ce la facevo tranquillamente eh ho capito ma trovi dove scappi ti ammazzano in ogni caso a questo punto almeno prova dai decidi tu eh io decidi tu allora dai decido che decidi tu albero e poi andiamo alla sedia anzi andiamo direttamente alla sedia mi sa perché in due però l'albero non facciamo un cazzo c'è io potrei andare anche sull'albero ma se poi ti lascio da solo alla sedia rischio che mi muori poi sei molto più bravo tu però eh eh cioè tu sai che io ci gioco da molto più tempo ma tu hai molta più mira di me ma è perché io gioco dagli fps in generale cioè a via di mira ma è impara giocare vieni qua vieni tu l'albero cambia rotta torna indietro ci sono ci sono c'è un modo per scendere più in parità da sto cavolo devi puntare con la freccettina lì in giù perché devi far ballare me allora facciamo come abbiamo fatto l'altra volta mi hai ammazzato quasi no eh non ti ammazzi mi hai buttato dall'altro lato perché me l'hai buttato anche a me addosso ma mi ha buttato a quel paese sorry certo che io come prima arma la mitragliatrice leggendaria vabbè ma dimmi che mi vuoi far perdere va bene c'è uno sopra di te c'è uno lì sopra ah è dietro di te però non so bene dirti dove penso sui tuoi 10-15 sopra la montagna o la collinetta non riesco a capire cosa stai dicendo o evito che cadevi ma si è andato con le paracadute no hai usato paracadute per scendere eccolo qua è qua davanti eh ti ho detto ah ok l'ho ammazzato io? sì ho fatto una missione ma vai via vuoi dire di no? vuoi dire il contrario? che non mi hai fottuto la kill? la kill va chi se la prende quella è KS kill secure eh sì non kill steal chi l'ha mai detto? ti lascio uno shieldino qua ti lascio a prendere ho già gli shieldini trovi adesso se tu non mi avvisi io ti lascio le cose e poi le lasciamo indietro che sei prega dai voglio dire no gli shield sono una cosa vitale sì finché non ce l'hai poi mentre ti sparo è un po' complicato da usare ti mori di chiusi ah tu sei capace a costruire quindi per farlo a farmi una mini una mini struttura? sì tieni questo porca leva i dasti cosa ti interessa? non mi provo a buttarli sì top sei andato sul tetto? eh ah papà papà mi pare di ho spaccato sì ok ah da dove? ah da dentro siamo in safe ostia una volta navi sì mi ripeti cosa devo fare in sti cavolo di cerchi comunque devo passarci con un veicolo nei cerchi di fuoco? no che cosa? ci devi passare con un veicolo che voglio lascio le pistole qua doppie che la gente dice che le pistole doppie sono molto forti io se come prima arma la tengo se come seconda arma la butto perché non riesco a giugarla bene comunque nel momento in cui l'ho eliminato quello sì ho visto che era leggermente un bot leggermente allora era un bot o era una persona che ha appena iniziato ma se ha appena iniziato no aveva un nome di quelli non era russo quello era russo sì comunque era un di quei nomi che si vede che sono bot vediamo un airdrop qua davanti armi in spalla anzi armi in mano perché ci sarà sicuramente qualcuno e si va sei tu col rampino? sì ok merda sono ancora avanti no ho finito avevo finito le munizioni in quel momento proprio le munizioni ho finito neanche crediamo a me? sì prima me così poi si possono luttare con calma se ci sono di mezzo io io gli do il fastidio cerca ma ho le hai ammazzate entrambi? esatto brava vieni a salvarmi adesso cosa dici di vita? 14 non mi chiedere come ho fatto a prendere quello lì in testa perché non ne ho la più pallida idea ma basta che l'hai preso io basta che butto questa adesso non ti fa un culo io secondo te perché l'ho lasciata quella? guarda se hanno bende o medikit eh sì bende bende dammi bende bende da che di bende? bello saper buildare gli ho chillati senza saper buildare visto? non serve buildare in questo gioco l'ho sempre sostenuto basta solo saper mirare e sparare in testa questo poi lo do a te cosa? ci spuglio? scar eh perché io ho la maledizione dello scar non so se tu lo sai ah questo? quello si chiama scar ed è anche leggendario io ho la maledizione se ho in mano quello io perdo prendi quello viola qualmeno c'è un medikit qua lo vuoi tu? quanto hai di vita? ah sticazzi che paio ma quanto no 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 materiali bravissimo dai giù e muori per favore grazie prendo anche questo per ricompensa munizioni non ne aveva il maledetto era da solo? si è morto subito ma hanno questa arma bellissima e non la usano poi fai a capirli fin 90? si no cos'è che poi per caso di no gli scildini se non li avresti bevuti non mi sembra che ne avesse nessuno di scildini in realtà fai di madonna medikit però prendilo e usa lo fa ci sono delle bende qua se vuoi prima qua davanti che sta spaccando la roccia c'è gente qua davanti che sta spaccando la roccia davanti dove? sto cercando io a condotti non li ho visti io li ho visti eh dobbiamo andarci comunque verso condotti e di là la safe wow quanto sono compenetato male seguimi eh devi starmi attaccato al culo nel vero senso della parola aspetta allora no se spavo mi sentono no per l'amore del cielo no ho voluto usare il rampino no 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 usiamo piuttosto si usa il rampino per scappare ce l'hai il rampino? si non capisco ma mi adeguo non dovrei fare materiali sennò al prossimo fight sono morto basta 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 sto e andare per di là dove cazzo sto andando qui razzi? no ehm no ok ci servono subito degli scildini faccio un secondo una cosa prima di andarcene ci provo almeno la corsa automatica ah il crampo al mignolo Siamo in safe Possibilmente non da quelli lì Che stanno salendo sulla montagna Fammi solo fare Un paio di cose ancora Ci sono Stai in fio la G Ottimo C'è un fortatile D'acciaio davanti Quindi Si sono barricati malamente la Anche se il peso l'avessi già visto Non saltare Per il lavoro del cielo Ciao Mi ricordo più come si faccia a modificare Ma perché salto? Perché se premi la barra spaziatrice salti no? Io non premo la barra spaziatrice Premo la X È quello che è Non devi premerla Allora Saranno ancora qui? Non ho idea Io mi campero un attimo qua dentro E' riuscire a capire come cazzo si modifica Se io faccio così Come faccio a modificare? Così cambio i materiali Così cambio le cose Non riesco più a capire come si fa a modificare Non riesco più a capire come si fa a modificare Io sono sopra il fortatile Ciao Ci lanciano Ho visto Non a noi pensavano ci fosse qualcuno Però Non so che ci siamo Credo Dove sono? Non ricorda me Ho una mia madre la madonna come al solito Ho un po' di vita entrambi però Non ce l'ho fatta Ammazzano Come fai ad aver tolto la vita A tutti che sono fatti Ho un po' di vita Ho detto che io ho tolto vita Io non posso fightarne due però ragazzi Eh io ne ho fightato di due per un po' Eh fu scudo quasi Questa va po' di vita C'è gente che ne fighta cinque assieme No non lo so in realtà però Bello Ehm Ci sei? No Mettiamo un secondo Stiamo ancora settando roba Porta finta Ah Bene Ci sei? Sì sì ci sono Buono dai Dai non ci siamo cavati male Sta partita No Stiamo imparando piano piano A coordinarci Il problema non è coordinarsi Il problema è sparare Sì ho capito Ma se ti sai anche coordinare Che dici ok io spara quello E tu spara Sì esattamente Ci sei? Sì Guarda un secondino come va tutto Eh Aspetta eh Il cellulare intanto Sì 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 Perché era sotto carica per quello Dimmi anche dove andiamo Andiamocene Proviamo Prova di nuovo la sedia Dove siamo andati prima Ok Magari scendo sull'albero Provo a fare una roba E poi arrivo Posso io modificare Eh, se premo questo in teoria me la dà Che posso modificare la costruzione Ma poi in gioco non me la dà Eh, ma devi saperlo Cioè, sono cose che Mamma mia, oibò Eh, ho cambiato le cose Non mi ricordo più come era impostato prima C'è altra gente? Non lo so, io sono sull'albero Ho appena trovato un cecchino Arrivo, eh Con comodo Io anche per te, praticamente Sì, c'è uno sulla sedia in alto Arriva da te probabilmente, eh Occhio Lo stai cerchinando? Sì, sto cercando di cerchinarlo Per distrarlo Così tu trovi un'arma Ce l'ho l'arma Eh, una con la skin da bagnina, eh Non la vedo più Sì, posso modificare lui nuovo Che bello Ah, mi sa che è laggiù Dove? È alla casetta dietro la sedia Ah, ok Sono molto lontano da verlo, eh No, qua non posso In realtà Ma è nascosta È nascosta dentro Non riesco a colpirla da qua Neanche con quello Termi Troppo lontano Questa mirata Curta la casa Tanto lei che non puoi Dovrà venire di qua E magari la serif si chiude su di lei Che ne sai Si chiude su di lei Siamo sfigati in un poco, eh Probabilmente se ne starà andando Anche perché rischia di prenderle Di santa ragione, quindi Ah, sì, sì Sono d'accordissimo Ho due cecchini Eh, puoi sparare con uno solo E uno ce l'hai tu Perché te lo darò a te Eh, sono qua Cosa preferisci? Quello termico O quello normale? So cosa ha cambiato uno e l'altro A vedere questo Per la carità Vedi dove sono le persone con questo Per la carità Hai lutato tutto? Eh, ipoteticamente Recentemente Possibilmente Etto Sì, l'hai lutato Uh, ma dimmelo che c'avevi un assalto qua sotto Ciao, assalto Luta materiali Ah, certo Sì, lasciamo i nemici Che hai il nudo Brava Non ti ho idea Sì, sono in difficoltà Al massimo Li dai a me Se vuoi ti insegno A fare scala Scala muro Scala muro Per riuscire a difenderli Un attimino Non serve Sì, ma non è che posso sempre difendere io, eh Perché no, tu difendi io Sparo Ho capito Ma devi sapere Unbildare anche un minimo, tu Io ti ricordo che gioco dal pad Non è che puoi dirmi Delle combinazioni dal pad Basta che lo imposti Sul pad Mi incasino la vita Se imposto qualcosa sul pad Pensi Andiamo a condotti Che devo fare? Non mi fido molto Di quella lì Perché Ma mi sa che era da sola, eh Ma poi fosse da sola Non mi fido Ci aveva le spalle e ci ammazza Anche perché mi sa che era Andato anche lei verso condotti poi Tutti vanno verso condotti L'hai lootato, se vedi Eh, lo so GF, GF C'è qualcuno qua davanti Di preciso dove? Qua in fondo a condotti Vedo che sto spalcando Spalto tu? Vai, vieni con me Ma che schifo di pad... Sì, vado a sparare a cazzo Ah, dietro Non so dove è dietro, eh Ok, ho visto dov'è Dove? Due Ho fatto malissimo A uno Ok, uno si sta nascondendo dietro l'albero E uno è sul tetto della casa Merda, dietro Eeeh Ci appuntare No Dove imparare bene ancora a costruire Guardati le spalle Non c'entrava a costruire qui Hai costruito neanche bene Il problema è che ti è arrivato alle spalle Non mi sente giustamente Il caricamento non mi sente Ah, dicevo Non è il problema di costruire Perché hai costruito neanche bene adesso Hai arrivato alle spalle Non ti sei guardato alle spalle Eh, dovevo Dovevo costruire un altro E circondarmi Invece non ho fatto in tempo Ok, dai, metto quella I gemellini A differenza che io Ho il mantello di Ragnarok e tu, no? Ma sì Non serve a niente Forse non mi ha sentita Dunque Comunque come va la live, hai visto? Sta andando bene o no? Sì, è perfetta Adesso sta praticamente Quando ne stavo mostruendo prima la campanella Adesso è Per niente ci dobbiamo ancora buttare Quindi è ritardo di 2-3 secondi Credo Ok E la qualità video com'è? Si vede bene Il cellulare Ok Ma ci Guarda un attimo la qualità Proprio hai in pal Se riesci a vedere quant'è Eh, si vede Si vede bene Te l'ho detto Quando Quando non mi crasho Al cellulare Preparati perché Atometo si fighta Noi scendiamo sopra Ah, dai Si vede Io dal cellulare Vabbè la vedo un po' pixelata Ma è normale Ma quanti pal ci sono? Che, 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 che La qualità 480 360 Quanto dice che è? Ah, che posso metterla io Aspetta Che non puoi metterla Voglio se mi dici solo quant'è Automatica Automatica? Io Ma sono morto Sei una Ma come pensa Una buona mera Eh, eh Io c'ho una pistola E lui l'ho salvo No, c'aveva anche lui la pistola C'aveva anche lui la pistola Non c'aveva l'assalto Mi pare No, era un assalto Io non ce l'ho con la skin Però ho la versione femminile Non è esattamente quella femminile, sai? Un po' diversa Si No Ci assomiglia Molto anche Quella del Twitch Prime Questa non mi ricordo Sto pensando a una roba Devo vedere Eh, qui che si chiamava Andiamo Qua Dove? E' un po' più lontano, no, eh? Qua No, va bene Andiamo lì Dimmi tu Eh, non lo so Andiamo alla villa Dei supereroi Si Non so dove è tanto Dimmi L'ho messo il puntatore Di fianco a rifugio Ah, beh Proprio dove va l'autobus Esatto Sto vedendo Quel cacchio di balletto Che sai fare Su tu Quanto costa Che non mi ricordo Perché vuoi vedere Quanto costa? Eh, perché così Quando esce Te lo faccio comprare Ecco Perché vuoi farmelo Comprare Comunque Perché tu non sei buona A farlo Esatto Ho capito Ma è colpa tua Non mia Luta veloce Costa 500 Li ho Appunto Perfetto Dai Lo devi comprare Sei tu che hai aperto la porta? Sì, sono io Vabbè, senti Questo me lo bevo Siamo Stiamo in sé Tanto Vediamocelo adesso E crepi la varizia Questo, dai Il mega barilone Bevilo, bevilo Io ho sempre detto Piuttosto Se dallo ai nemici È meglio che lo beviamo noi Io voglio Pompare Io lo trovato Ho trovato anche l'assalto Quello nuovo Che ci sono Ho trovato Pompare Anche se quello del nome Mi fa schifo Hai messo tu la trappola? Sì Bravo Vedo che inizi a capire il gioco Sì, stronzo Di più dei tuoi avversari Del gioco E metti le trappole Dove le persone Non possano vederle Puntualmente Ci cadranno dentro Beh, quelle ho Mi dici cose ovvie Cioè Fidati La mia esperienza Nel cadere nelle trappole Ormai mi ha insegnato molte cose Probabilmente le volte Sono entrato nelle case Ho preso in pieno le trappole Con me E tu pure Tanto c'è spazio Cos'hai lasciato qua? Dimmi che non hai lasciato Non l'ho neanche visto Sono le munizioni sopra Ti pare che l'ho lasciato Prendilo Ah, io? Eh, io ce l'ho già Questo è OP Eh, ok Quando ancora c'era la Thompson Eh, quelli sì che hanno Vedi Io sto muovendomi Io sto muovendomi eh Aspettami Ti sto farmando materiali Sai, sai, io riesco di pillare In quel momento Passo qui un po' del nonno E prendo il tattico Tu devi far conto che la spingo io La gente che gioca da tanto tanto tempo È un po' al terrore Di questo skin Eh, ci sono persone uscite dal varco eh Sopra di te No, sopra di noi in realtà Lì a... Forse non ci hanno visto No, che non ci hanno visto Ah, infatti Andiamo E comunque ti stavo dicendo Questo skin qua Per i giocatori Epic Di Fortnite Che gioca da tanto tempo Hanno il terrore Perché questa è la cecchinatrice Per... Guarda Questa skin È proprio È una cosa impressionante Con questa tu Cioè, chi ti cecchinava Aveva questa skin Tanto tempo fa E avevano tutti paura Perché sapevano che se c'è Se vedevano questa La cecchinata in testa Te la prendevi Poi c'è la gente come me che La metteva per fare paura Ma poi non era capace Esatto No, qualche cecchinata bella lo fa È stato lutato sto posto Mi hanno sparato, mi sa Ok, io che non so dove potrebbero essere Sì, sento gli spari Ma probabilmente sono alla casa Sette hanno... È spaccato tu quell'albero lì, sì Sì, sì, sì L'ho spaccato io Sono qua davanti Che stanno fightando Non so se... Allora, qua si... Qua stanno spaccando Ma... Oh, quello non prende danno Quello con la skin bianca Ok Non ho messo a riparare le strutture Merda Che cazzi, che male Sta arrivando verso di te Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ti ho visto io tolto sta stronza Quello bianco non prendeva danno Mi sa che non ha preso di danno invece Allora aveva 30 di vita E va bene, così Ma una partita bella come quella di prima no, eh No, perché mai Dai Metto pronto e arrivo subito Ok Guarda, faccio una cosa Cosa? Adesso ti dico Dai qui Arriva Pran 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 E c'è E c'è Adesso ho ancora l'altro da qui per l'altro Vaca boia, vaca Allora lei è qua Ci sei? Ci sono Bene Perché stiamo per scendere Dimmi Dove andiamo? Andiamo a morire Quindi dove si muore in fretta? Pinnacoli ma non ci voglio scendere Perfetto Dai dimmi dove Segna Siamo Dove vogliamo morire in fretta? Vifinghi È il territorio della tua Finta il laoi Il laoi Eh? Il laoi è di lol Eh vabbè S'assomigliano Ah sì Cosa? Come prego Cosa? Come prego Purtroppo potrebbero mettere i nomi diversi Mi mandano in confusità Ma mi hai capito Dai Io ho capito che sei una cretina Grazie Anch'io ti voglio bene Ma confondermi la loi con il laoi Non è mai morto nessuno Beh Diciamo che vogliono un sistema di persona partita Quindi sì Qualcuno è morto Sto stai spaccando Sì 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 Sono buggato in un tavolino Ok Proprio a spaccare la nave sotto Mi raccomando Perché sei precipita nel vuoto mortale Non spaccare dove sei tu adesso Perché precipiti sotto Ah immaginavo Vai Prendi E faccia Quello catturato Perché pure questo? Poi io posso anche tu Ce l'ho Ce li ho Non ti preoccupare Che io le armi ce li ho Vedo che senta niente Qua sì Inca faccio che mi servirà E' un bello shield Devo ricordarmi che devo usare GF GF HL Good fun and luck Pose Non so non imparerò mai a buildare No Mitrogliatrice basta Eccolo Ma perché quello? Ho degli shieldino Uno shieldino qua Vieni a prenderlo Prendili tu Prendili tu C'è ce l'ho già preso Oh Trocato anche uno shield grande Perfetto Allora adesso mi full Sono io Ok Troppo a chiedertemi infatti No sono io perché non mi switcho le armi Qualche volte non mi switcho le armi e colpisco Via la mitraglia Chifo Questa è una bellissima jump Si hanno dato il creatore delle jump Si hanno dato il creatore delle jump di questo gioco Ah è meglio il fucile a pompa o la doppietta? Io la doppietta non riesco ad usarla Allora Agirebbe Hai un colpo e devi ricaricare C'è chi con la doppietta fa le provate Io non... Sciotta immagino Sì Se capisci in te Sì C'è via Come tutte le armi Veno male però Quanto legno si fa in sto cavolo di posto Un botto di legno Ti trovi un tattico ti ringrazio Eh Trovi un po' un po' tattico Oh una gathering viola Che bella La mollo lì Esattamente come Eh Eh Bravo hai capito Quella serve solo per buttare giù i pontini E manco Perché c'è di meglio mi sa No è l'arma per eccezione Ma adesso che dobbiamo correre C'ho la jump Sta tranquillo E qua abbiamo anche una fenditura Vieni qua Ho una cosa per te Dove sei? Sono qua sotto Vieni sotto Eh Sì Ciao Andiamo? Possiamo andare? Andiamo Ma hai buttato giù Come ti ho buttato giù scusa Quando hai saltato mi hai toccato dentro e mi hai fatto scivolare giù dalla montagna Ah ok Per fortuna ce n'era un'altra di fenditura Andiamo verso sponde del saccheggio Il lago per intenderci Perché sono caduto male e ho dovuto fare un'altra venditura Questa cosa è un'altra di fenditura Mi sembra un'altra di fenditura Mi sembra un Mary Poppins Sai che io sto andando dove hanno fenditato e probabilmente ci morirò per prenderla Ma vieni qua un secondo che continui a correre Ma non posso portarla Ah va bene Dimmi cosa vedi che di solito ti può servire Che magari ti posso dire Sì guarda posso portarlo o non posso portarlo Eh tu non me lo dici a me Penso che si faccia così a sto mondo Non andare qua Sto prendendo le munizioni che hanno lasciato Eh certo Magari hanno appena ammazzato uno lì Ecco Passiamo da sotto qua Così magari non ci vedono Siamo piccoli piccoli Eh sì certo Ecco E direi di andare direttamente a sto fondo Eh che palle Per fortuna finisce la season fra una settimana E le fenditure le tolgono Aia Noo stavo ricaricando Ricarico sempre nel momento sbagliato Eh io stavo cercando di buildarmi un attimino Ah l'altro l'altro l'ho così ammazzato Quasi però È il problema Bravo 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 Sempre nel momento sbagliato ricarico Comunque non va bene Mi è arrivato il loro razzo in faccia E non è una bella cosa Tanto se lo metti male Come l'hai detto Non è una bella cosa no Mi è arrivato un razzo in faccia Cosa ho detto Lentamente lentamente sto facendo tutte le sfide Tutte Però non le farò mai tutte Se questo è l'uomo Eh non mi sente nel caricamento Non mi sente Stai zitto mentre carica Non ti sente Ok Ok Che sento Adesso mi senti Non mi senti prima Questa è l'ultima Poi chiudo Dicevo Ah ok Sono le sei e mezza Così anche tu te ne vai tranquilla poi Ma sì tanto io penso farò ancora un paio di partite al massimo Aaaaaaah Rambo Rambo Ho cambiato skin Non è che ho fatto questa cosa Quanto lagga Mamma mia Ma è da quando ho visto quel punto lì che me lo chiedo Ma quello è un circuito di gara Che cosa? Quello di fianco a palmetto paradisiaco Ehm sì Puoi fare le gare con i gokart Non le fa nessuno Si sparano No qualcuno le fa Puoi andare in parco giochi e farlo Ti diverte Parco giochi? Parco giochi sei mortale quindi No muori Se ti spara un nemico Se ti spara un compagno di team Se non sei il nostro team Muori E rispondi subito È qualche missione da fare qua a Crocevia Ma non ne ho minima idea A me che ne hai talmente tante che Ma appunto per questo ho un'idea Vado di qua io eh Di fianco a Crocevia del Cerfame Se vuoi venire con me No O se l'Europa non era ma io Guarda che di là da solo ci muori Beh Beeeella Una pistola Ora quella partita di prima Ce la siamo giocati bene eh Quale? Prima prima Mi ricordo Quella che siamo arrivati O secondi o terzi Abbiamo ammazzato quei due Lì alla sedia Sono un pezzo di spazzatura Non mi guardate Non esisto Cos'è il fatto? No mi sono nascosto In mezzo ai cumuli Di monnezza Per cui mettiamo gli shield Andiamo anche uno per te No credo che sei già a metà No Tu no La gente fa le provate Con il rampino Io non riesco a spostarmi Da un muro all'altro Ma stavo stupido Eh Dov'è la fi? A quel paese Tutto normale Basta Non lo voglio Togliamo queste Kimbo A Kimbo Per favore Fammi concentrare Facciamo la fine di prima E delle altre 20 partite di prima Ma tanto sempre quella a fine facciamo Oh Stiamo imparando no? Io Sto imparando Si ho capito Ma io mi trovo con un compagno E io non costruisco E sparo Grazie Quello l'avevo dedotto Dalla prima partita Che abbiamo fatto insieme E da tutte le altre Che abbiamo fatto assieme Probabilmente Solo che Per riuscire a giocare bene Con una persona Ok che devi essere bravo Tutte e due E quello Ok Ma devi anche trovarti Con l'altra persona Se no Temore Vengo a prenderti Che andiamo in safe Ok Ok Stai che dobbiamo correre Sì 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 Tranquillo Sto sto controllo Dici Ma io Vabbè non sembra Io presumo È possibile che non ci sia una macchina C'è un carrello Eh ma il carrello è più lento So Vabbè andiamo col carrello Eh sì Prego salga Ah la tragedia Ma 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 Come Piuttosto Vediamo se c'è un rift qua Dubito Ah Ci si chiude Ci si chiude Ci si chiude Ci si chiude E' stata quella Su un piccione Attacca la sonita Che ho missato letteralmente Perché Siamo salendo sulla montagna Perché sto tirando dritto io Non so dove devo andare Non so dove devo andare Insieme Eh ho capito Vieni da me Vabbè Vai 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 scendi Io ci provo a scendere senza morire Cosa che sarà molto improbabile Quindi io faccio così Pista Qui non è stato luttato Ma non abbiamo tempo Pista E quello Copertura Scendere dalla montagna No copertura Questo qua in più Sì perché ogni tanto sbaglio Ah è una roccia Pensavo fosse una persona Uh macchinetta leggendaria Questa da Mitragliatrice 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 Ce n'è uno qua davanti Credo Ho flashato male io Probabile ho flashato male io Dai vieni vieni E guarda il tavolo C'è una guai Alcuno Datemi un tattico Uh Niente Ho confuso una pistola Per un tattico Sì Trappola Basta con sti tattici Tu scherzi Ma salvano la vita i tattici E se li sai usare Ovviamente Dov'è la prossima Sempre affanculo Ma un po' meno stavolta Doviamo solo attraversare un lago Facciamo il giro largo Vuoi fare il giro largo Non lo faccio più Scemo Ho una jump Se vogliamo usare quella Eh dillo prima Lo vado adesso Ah ok Guardatela come si restreggia Come uno scarafone proprio Ascolta Scarafone Sarai te Eh vabbè Non ci passo nel mezzo al lago Figurati Ma non finisco Ma è più corto Eh sì È più corto ma Ho finito un rampino Ecco pure Dovrebbero metterli più corto C'è tanto se io Se l'ha messo Quello schifo lì Inutile Ciao cubo Ci sei? Sono dietro di te C7 Non è che C8 C19 C7 Mi hanno fatto Spacca gli alperi Brava Non ci hanno visti Tanto Non c'è nessuno Siamo come Delle foglie al vento Ti do un consiglio Quando giochi Che cammini Con le forna In saltella Secre Perché così Se ti arrivi una cecchinata È meno probabile Che ti prenda Siamo in un posto brutto Lo sai Vero? No Io sono in un posto brutto Più che altro Vieni via da Pinnacoli Andiamo verso Borgo Eh ho un po' di problemi Problemi hai? Stavo sparando Potrei essere caduto Sotto Non stavo sparando Ma li vedo sparare Quindi mi allontano veloce Via Vieni con me Ti porterò lontano Perché Na 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 Perché non possiamo Ma prima per il carrello Ci sono rimasta malissimo Non mi si era mai rotto Un carrello Eh Capita C'è sempre una prima volta Lo so però Ma caspava Cogliermi queste armi brutte Devo togliere Ste impostazioni Ci arrivano tutti alle spalle Tutti Spalle Morti Fai una bella roba Piazza Dove sei Ok Non ti vedevo Ok vai Piazza la jump Lì sopra Eh Ah dove Magari non fuori Perché sto prendendo da caduta Eh ce li abbiamo qua sotto Ho visto Ho visto mentre volavo Ciao Eh siamo un po' circondati Amore mio Eh ho capito Siamo andati in mezzo Al culo del Siamo andati in mezzo Fortissimo uno sopra Piotto un po' di vita E qua Che sta costruzzando Merda merda Ecco c'è Ok Volevo cercare di livello 15 ma no Serve Serve Perché a livello 6 Ah 14 Eh devi livellare un po' di più se vuoi ottenere le cose Ma no è solo perché magari facevo livello tondo ma non serve Non serve 15 cos'è che ti da Eh la Il piccone gommoso Piccone È bellissimo un piccone gommoso Eh È una bellezza Un po' di più se vuoi ottenere le cose